Presentato venerdì 18 gennaio al Teatro La Loggia di Cison di Valmarino, il nuovo libro di Roberto Maroni dal titolo Il rito ambrosiano. In un intervento moderato da giornalista Adriana Rasera, l'ex ministro dell'interno e presidente della regione Lombardia, ritiratosi dalla vita istituzionale, ha raccontato al pubblico, in veste di saggista, un modo di fare politica. È un modo di fare politica, di amministrare, di governare ma anche di vivere che c'è dalle nostre parti. Il rito ambrosiano si identifica con Milano ma è diffuso in tutto il nord e vuol dire concretezza, vuol dire condivisione, vuol dire coraggio nelle scelte e vuol dire anche attenzione nei confronti di tutti gli altri. Questo porta a risultati concreti nell'azione di governo e contrappongo questo al cosiddetto rito romano che invece è burocrazia, lentezza, complicare le cose semplici e non dare troppo spazio al merito e alle capacità delle persone. Io cito nel libro tanti esempi di collaborazione tra me e sindaci Lombardi, sindaco di Milano per esempio, per fare Expo abbiamo collaborato nonostante lui sia del PD e soprattutto nonostante lui sia interista, che per noi milanisti è veramente una tragedia. Però abbiamo lavorato insieme e siamo riusciti a fare una grande cosa, l'Expo Milano 2015. Poi c'è un capitolo dedicato all'autonomia che è la madre di tutte le battaglie, come dice Luca Zaia. Come è nata l'idea per questo libro allora? Ma è nata casualmente, in un dibattito c'era un esponente della casa editrice Rizzoli che mi ha sentito parlare appunto del rito ambrosiano come metodo di lavoro e mi ha chiesto di fare questo libro. L'ho fatto quest'estate senza grande sforzo perché ho raccontato un modo di fare che è comune a tutti noi che viviamo da queste parti, quindi non è stato un grande sforzo. Io ho messo giù, mi pare, dei concetti e delle cose interessanti.